Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Momenti difficili per Fedez che è stato ricoverato presso il Policlinico di Milano. L'annuncio è stato fatto dal rapper stesso, condividendo su Instagram una foto che lo ritrae, disteso su un letto dell'ospedale. Sono tipo DJ Khaled quando dice Another One, ma con le emorragie interne, ha esordito Federico Lucia. Poco dopo, Fedez ha spiegato ai fan di essere stato ricoverato per emorragia interna e ha ringraziato i medici che lo hanno curato per averlo salvato. Il rapper ha raccontato, grazie di cuore ai dottori e agli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l'emorragia interna prima che fosse troppo tardi, per fortuna. Fedez non si è limitato a spiegare il motivo del suo ricovero, ma ha anche lanciato qualche frecciatina all'ex moglie Chiara Ferragni. Ammesso di essersi sentito male la stessa sera in cui ha scritto una nuova canzone. Sbagli se pensi che non ho mai amato. Per te avrei ucciso, ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi sono fatto per tutto lo schifo che ho accumulato, recita una strofa. E ha concluso. È in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle. La salute di Fedez sembra essere migliorata, ma l'episodio ha lasciato il rapper con un messaggio chiaro per chiunque lo abbia deluso. Resta e vedere come mai evolverà la situazione o ci saranno i diritti.